Io faccio vedere all'apprezzazione del Presidente Comunale della Commissione di Abuso dei Corte Sociali dando per scontarla Allora, un terzo per letto, le vogliono, tutti che si alza a prova, che questa seduta è ancora a prova si chiama,omo non siete ma, ma sono conosciuti und vi saranno qui. Grazie a tutti. C'è una proposta di delibera di giunta al Consiglio con una determinata eseguibilità. Mi può spiegare che effetti c'ha praticamente dichiarare immediatamente eseguibile una proposta di delibera di giunta al Consiglio? Perché questa cosa non mi è chiara. Vorrei chiedere una spiegazione. Perché poi tra l'altro nella delibera proposta al Consiglio non c'è l'immediata eseguibilità. È stato fatto per poter portare subito in commissione. Questo era il risultato dell'epoca. Quindi non produce un sicuro effetto sulla risultato. La proposta è immediata e si poteva subito portare in commissione. Oggi è un'altra proposta. Oggi, se è sicuro, si può portare subito in eseguibilità, non penso che sia necessario per i tempi di prima e in grado. Non mi capisci, non mi capisci, perché sulla proposta di delibera di giunta al Consiglio c'è l'immediata di più. Sì, allora c'era la necessità di portare la immediatezza alla discusione della commissione. Allora, diciamo, per una persona di forma, se rinforzano immediata eseguibilità, ma non si chiede più che immediata eseguibilità concreta del regolamento, ma non si chiede più che immediata eseguibilità concreta del regolamento, ma non si chiede più che immediata eseguibilità concreta del regolamento. Allora, con attenzione, riteniamo questo regolamento valido, una proposta valida, e quindi a tutti i nostri lavoro, come ho detto 5 Stelle. Vedi, adesso voglio quanta volte l'applauso e voglio andarlo su quante, perché vogliamo favorevole voi, quindi... Quando le voce sono fatte quasi in maniera fatta per bene, si dovranno andare avanti. Purtroppo quando sono fatte con invenzione, non bisogna andare avanti. Anche noi presenti annunciamo il nostro favorevole al campo e chiediamo di mettere questo regolamento. Grazie, signor Presidente. 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 Grazie.